9 novembre 1997. Muore Elenio Herrera, calciatore e allenatore di calcio. Nato nel 1910 e chiamato all'Inter da Angelo Moratti nel 1960, sotto la sua guida la società nerazzurra vive un periodo d'oro, tre scudetti, due coppe dei campioni, due coppe intercontinentali. Il mago vince tutto e i nomi degli uomini della sua squadra diventano per tutti una filastrocca da ripetere a memoria. Sarti, Burnic, Facchetti, Tagnin o Bedin, Guarneri, Picchi, Jair, Mazzola, Milani, Suarez, Corso.